Guarda, 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 dimmi! Se c'è una roba che mi fanno dar via le testa, se c'è permesso, trovare questi bidoni stracarichi di sacchi che dopo c'è, se vanno a finire per terra, dappertutto, e arriva i cocci, arriva i pantagani, dimmi, dimmi se c'è permesso! E non ho mica quei turisti, sa? Nooo! Quei veneziani, ah! E vediamo qui! Mi vorrei ricordare che su questa città che abbiamo i spazzini che ti sono a casa tutte le mattine! Dindon! Chi sei? Spazzino! Dite che dà il sacchetto e siamo a posto! Mi che magari delle volte mi dimentico, magari che dico, un attimo, arrivo! E finché io aspetta, mi che preparo il sacchetto, che faccio il gloppo e che io caglio da basso qua a cordano. Che gana pazienza al mio spazzino! Ora, bravo, buon e bello, va bene? E ora per cosa ho da vedere questi qua che arriva pacifici con un sacco di scuole grande così. E si ferma qua davanti del bidon e pum! Io cassa dentro! E i veneziani? Eh, certo, i veneziani! Ascolta, o perché non voglio stare a casa e aspettare che passi il spazzino, o perché il spazzino si è già passato, o perché comunque gli dici Ah, mi vado da basso, butto dentro del bidon, tanto non mi interessa. Fatto sta che cassa uno, cassa st'altro, riva il terzo e dice ora è questa città piena di scuole con tutto quello che paghiamo noi altri! Ora è il scartoso di affissa dei turisti! Nooo, amore! Non stiamo a tirare sempre di mezzo i turisti, perché è vero che il bidon si è pieno, ma tu sai perché? Perché c'è il molleton che sta sotto di qui e questo qua qua di fronte e si appena veniva da basso e l'ha messo dentro del sacchetto. se ti viene a via! Eche! Eche! Ehi, vengune, venguie. Ehi, venguie, venguie, venguie. Non devo le sceacchetto, ogni gatti. È un tibole amica, questo qua lo va a mio tempo! Perde, dai! Porta, che chiusa!